Un giorno si mette fermo all'arrivo di servizio, tu ero occhio bello, occhio bello. 10 anni fa, si sentono fermi, si sentono a andare in servizio, occhio bello. Ascolta, quando schiacci, ti affacci al finestrino e ti ho scritto. No come a te che fai sette ore. Ascolta, tutto il giorno, una volta. Ma si sta diventando peggio di Pelleo. Nino, uno palle tu. Nino, due che fanno fischio. Me dei, me dei, mio parrino Nino lo specializza. Parla sempre, parla sempre. No, no, vieni qua. Ragazzi facciamo una colletta per il mio parrino. Spiegaci, spiegaci, di notte noi quando parliamo, che vediamo le scitine nell'antenna. Non ti faceva parlare più, c'è la panocchia. Mi vuoi parlare? Il panocchio non ti faceva parlare, te lo fai a posta. Lello, stacca giù fino a l'accelato. Si ferma, ci si ferma. Lello, stacca giù fino a l'accelatore. Alla me ne dite, stacca giù. Ma tu non ce l'hai a Facebook? Ci fici una fotografia. Se l'ho caricato, ci fici una fotografia. Ci fici una fotografia, ci fici una fotografia. Ci fici una fotografia. La fotografia, la fotografia. La fotografia. Ci fici una fotografia. Da Calenzano. Da Calenzano. Inoltre. Un figlio, dicevo io. Vim, vim, vim. No, ci sei già, se ne per ulti non ci vuole altri. Siete sempre da sempre per rompi, scala di silvano Frecetta. non ti serve più che in casa sai che si fanno trecenti? sai che si fanno trecenti? c'è gente sempre che parla di chicorto allora ho più cinquant'anni lui ne parla sempre bene ma perchè non ha voto mai preferite con noi? perchè ti è male, per scalgiare delle mie ahahah, ti è male che si arriva alle volte eh, eh, finisce che ti disse l'ultima volta che ti sentiva carata non ci passi più da Firenze un bar siierei hai invertito le mare eh, c'eressi pure io non ci passi più da Firenze è quello che moto a poco della Sicilia ogni taglio che ci sia oggi Mauro Pirata, ascolti i medici super saluto e di cordializzo devo andare a lavorare per me è stato un piacere è stato un bel uomo è la mia è la mia è la mia che pelle è lì? mspMI è la mia è la mia che è la mia sentite i miei 1600 gattini alimentati con kit e cat a gusto di salmone quello è l'uberrimorchio ciao luca rimorchio buonasera come va tutto a porto che dice il 1200 fuccellò sul 750 e te l'hanno segato a metà buona ripresa buona ripresa fatta di fuoco manca lante materie tante è un caffè ancora le materie tante dopo un marmette sull'affare e ti dico e vende a dare oh quello che gli occhiali ho detto ho visto sull'affare è un video è un video è un video pippo solitario ciao ragazzi ciao ciao a mazzatosta dove stiamo qua siamo a perugia alla cena di cinque bossoli grande è roba grossa c'è una cartuccia cinque bossoli e una cartuccia questo qui ragazzi è uno che c'è un pochi tochi cinese un pochi tochi cinese pippo poi c'è pure mazzatosta vedi mazzatosta presentaci mazzatosta presentamelo tu mazzatosta mazzatosta qua c'è Gigi Palladipo ma tu sei nuovo sei vecchio come sei? vecchio non vedo che sono vecchio mi sembra un po' all'ex-ronite ma tu che fai moduli schiacci o cammini? schiaccio ma moduli ma dimmi una cosa te fai nord sud o est sud o est ma ti fai chiamare mazzatosta e basta no no Mazzatosta alias Sarracino stela alias però alias da quanto è przy terms 10 anni 10 anni e basta te aquila bianca da quando è torna 9 anni questo secondo me mettici vent'anni vent'anni allora stai a posto эти cose vecchie siete ahahah quando ci faccio Stiamo andando? Fuori! 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 Il camion preferito di quella bianca qual'è? Il Volvo! Il Volvo! Ti danno il DAF? Che gli dici? Ma il DAF ci mettono la lavatrice per lavare il Volvo! E questa raccina dopo? Il Volvo pure? Ti do uno stralisco che fa tutto di questo! No, il Volvo è un problema di impianto in gennaio! Ma per camminare o per catturare? Per camminare! Tu amico mio che camion tieni? Io tengo un camion che ha le ali! Non mi prende vicino così! Qui abbiamo il ragazzo del sud per eccellenza Napoletano Doc che ha il menuccio l'arte della ditante! Buongiorno la dità! Buonasera! 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 Ricordi qua! Non havi paura! Con la roba che hai tu possiamo fare la guerra! Tu me capisci? Ma le Ferrari son tutte scappottate, Dio! Ma le Ferrari son tutte scappottate tutta il Cesena! Ma c'è uno così! Brrrrrr